Sinergie territoriali, un nome che ben rispecchia l'intento del nuovo contratto di rete sottoscritto da Silea e da Lario Reti Holding per promuovere azioni congiunte e innovative a favore dell'economia circolare. L'accordo sancisce l'inizio di un percorso di potenziamento dei servizi e di sviluppo impiantistico, oltre che uno strumento per la realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo in campo ambientale ed energetico. Uno dei primi risultati del contratto di rete è rappresentato dalla collaborazione tra le due utility lecchesi per il recupero energetico dei fanghi da depurazione presso il nuovo impianto appositamente realizzato da Silea. Un'azione che garantirà la piena autosufficienza di smaltimento all'intero bacino servito dall'Ario Reti Holding in un momento in cui, a causa delle nuove prescrizioni normative e delle ridotte capacità impiantistiche disponibili, lo smaltimento dei fanghi prodotti dal ciclo della produzione rischia di diventare una criticità a livello nazionale. Le sfide ambientali sono interconnesse, la transizione ecologica e lo sviluppo dell'economia circolare richiedono oggi azioni di ampio respiro, spiega Francesca Rota, presidente del CDA di Silea. Il contratto è nato con l'obiettivo di tutelare e valorizzare insieme il nostro territorio, aggiunge. L'avvio di questa stretta collaborazione è un passo concreto verso la realizzazione di quella circolarità di cui oggi si parla spesso, commenta Lelio Cavalier, presidente di Lario Reti Holding, e il fatto che i due soggetti siano di chiara matrice pubblica è un segnale forte di come i territori e le amministrazioni locali possano e debbano essere protagonisti di questa transizione che le circostanze ci chiamano ad attuare.